Questo è il minuto, benvenuto in terra di Capitanata. Si è già fatto un'idea del nostro territorio, delle nostre emergenze? Il questore di Foggia, una volta che viene nominato e si insedia, deve necessariamente avere le idee abbastanza chiare della situazione. Sa qual è la prima emergenza? Noi abbiamo l'emergenza Gargano, Vieste. Ci sono tante situazioni complesse che vanno esaminate, inutile, voi le sapete anche meglio di me, e su questo lavoreremo certamente. È una città che ha grandi difficoltà, soprattutto sociali. L'è stato detto questo? Come si porrà nei confronti di questa problematica? Diciamo che oggi ci sono parecchie realtà nel territorio nazionale che hanno una situazione abbastanza complessa. Foggia è anche essa una sede abbastanza complicata da questo punto di vista. Bisogna fare sistema. Io, come questore, con una meravigliosa questura, con il personale, gli uomini e le donne che avrò l'onore di dirigere in questo periodo di tempo, faremo in maniera tale che il nostro segmento di competenza, quello della sicurezza e dell'ordine pubblico, si interconnetta con gli altri segmenti di competenza nel migliore dei modi. Cercheremo di dare il massimo, così come abbiamo sempre fatto in passato, e questo non è una promessa, ma è un preciso impegno.